Siamo in ritardo! Affettati! Sarò il tuo ieri, il tuo oggi e il tuo domani! Che settimana di cacca! Comandante, è caduto un nostro elicottero! Oh no! Com'è successo? Ancora non lo sappiamo, ma abbiamo la scatola nera con i dialoghi avvenuti prima dell'incidente! Sentiamoli! Clic! Mario, ma tu senti caldo? Io no! Allora spegni questo cavolo di ventilatore! Sono bello? Sì, sei fico! È vero che i semi di mela aumentano l'intelligenza? Certo! Allora me ne dia uno! Ecco qua, fanno 10 euro! Lei mi ha truffato! Dopo aver mangiato il seme, mi sono reso conto che con 10 euro avrei potuto comprare 10 chili di mele e avere molti più semi! Vede? È già diventato più intelligente di prima! Cavolo, ha ragione! Allora mi dia un altro seme! Quale clima preferisci? Quello temperato! Wow! Cosa? Ho trovato un sito dove gli accessori da motociclista costano pochissimo! Perché perdi tempo con queste cose se non hai neanche la moto? Forse io ti dico qualcosa quando compri un reggiseno? Ma non eravate malati? Sì, ma siamo già guariti! Sei proprio tonto! Come ti è venuto in mente di togliere il passamontagna? Senti, sei stato tu a dirmi! Entriamo e facciamo vedere chi siamo! Come mai piaci a tutti? Perché sono ciambella! Puoi chiedere a Mario come si dice farfalla in spagnolo? Ma riposa! Non mi interessa! Sveglialo e chiediglielo! Mi annoi! Che pizza! Per far durare un rapporto è importante uscire ogni tanto! Io e la mia fidanzata andiamo in un ristorantino romantico dove si mangia e si beve bene! Lei va il giovedì e io il venerdì! Ho mangiato troppi dolci! Adesso hai sensi di coppa! Hai tre desideri, ma ti avverto che qualunque cosa tu chieda, tuo marito avrà cento volte tanto! Ok, accetto! Qual è il tuo primo desiderio? Voglio essere bellissima! Ti rendi conto di cosa mi stai chiedendo? In questo modo, tuo marito diventerà talmente affascinante che tutte le donne si innamoreranno di lui! Non mi importa! Va bene così! Ok! Pof! E qual è il tuo secondo desiderio? Voglio avere dieci milioni di euro! Ok, ma ti ricordo che in questo modo tuo marito riceverà un miliardo di euro! Meglio così! Io e lui abbiamo il conto in banca cointestato! Ok! Pof! Adesso il vostro conto è pieno di soldi! Qual è il terzo desiderio? Voglio avere un piccolissimo infarto! Ciao, olio extravergine! Ciao! È vero che sei nato il 10 giugno? Sì! Allora perché non ti chiami olio extra gemelli? Chi ha fatto fuori Kenny? Vecna o Demogorgone? Io non c'entro! Sono stato a studiare fino alle 11 di sera! È stato Demogorgone! L'ha ucciso col pendolo! Ah, amiche e amici! Mettete like e seguite Peratoons perché a 16.000 mi piace uscirà subito un nuovo video! Wow! È uscito Giochi e Risate! È un libro con tantissime battute, indovinelli, quiz, sfide visive e tanto altro! Perfetto per ridere e allenare il cervello! Disponibile in tutte le librerie, fumetterie e online! Perfetto per ridere e online!